Il Comune di Torino ha desiderio di comunicare che il coordinamento Torino Pride organizza un evento, l'evento Star T. Star T è un'organizzazione composta da persone trans che ha l'obiettivo con questo evento di raccontare quello che è il mondo delle persone trans, le esperienze. In tale occasione ci sarà la premiazione e l'obiettivo è veramente molto importante per abbattere quelle che sono le barriere e i pregiudizi. In questo evento è garantito il servizio di interpretari a Toris, ci saranno delle persone sorde che tradurranno le poesie. L'evento ci sarà il 23 marzo, la sera alle 21, dove presso il Cinema Massimo. Il Cinema Massimo è nella sala 1 e l'indirizzo è qui riportato in via Verdi 18 a Torino. L'evento è in collaborazione con il Comune di Torino, Museo Nazionale del Cinema e l'Oversen Film Festival. Grazie.